Siamo dovuti tornare sull'argomento che abbiamo trattato in questi giorni, il circo, perché dopo le proteste questa volta in pochi per la verità animalisti hanno protestato davanti palazzo comunale. Simbolicamente una signorina si è messa una catena addosso e una maschera da elefante. Allora siete saliti non più giù dove si trova il circo in questi giorni nella città di Arezzo, adesso siete fuori dal comune di Arezzo, perché? Allora siamo venuti qui innanzitutto per provare ad arrivare un po' più in alto, poter far presente di questo problema che esiste, per il quale non si può far finta di niente. Speriamo che magari le autorità o chi ha un potere maggiore magari possa fare qualcosa, è quello che speriamo tutti i giorni, che tutti i cittadini sperano tutti i giorni per quanto riguarda ogni questione che va a colpire una categoria, magari chi ha meno possibilità di essere protetta. Che cosa chiedete al sindaco Fanfani? L'ospicio sarebbe quello che nessun altro circo con animali attendi mai più qui ad Arezzo almeno, come già hanno fatto altre città italiane, per non parlare dell'estero. Questa richiesta ovviamente non è possibile, si chiede almeno che ci siano dei controlli, delle misure così restrittive per cui nessun circo con animali possa rispettarle e quindi automaticamente non attendare. Questo perché appunto siamo un po' stanchi anche noi da anni ormai di presentarci di fronte ai circhi, è anche proprio simpatico per chi partecipa, ma è indispensabile far sapere soprattutto ai bambini la vera realtà che c'è dietro al circo con animali.